Second Life è un'iniziativa generata da Nicoletta Gatti, sviluppata in occasione della Design Week. L'idea era quella di utilizzare alcuni tronchi ricavati dalla raccolta degli aia di tronchi che sono caduti dopo la tempesta che ha colpito Milano recentemente. Il nostro progetto si chiama Still Alive perché vogliamo segnalare il fatto che la natura è resiliente, resiste all'uomo e si oppone quasi all'invasione che il cemento e la costruzione stanno realizzando sul territorio. La città deve essere dotata di una struttura verde pensata per essere organica con la città ma anche sostenibile. Il nostro progetto vuole segnalare appunto che questo evento è stata una ferita, infatti è stata rappresentata attraverso questo taglio rosso violento quello che è accaduto all'albero che in particolare è un faggio. L'insieme di queste dieci opere vogliono rappresentare tutti insieme il desiderio di noi designer, architetti ma anche cittadini di Milano di voler riportare il verde all'interno della città, diffonderlo il più possibile e soprattutto proteggerlo.